il chandriston, la caucheur, la spagnola, la valenziana in pirata, la donna pirata e poi abbiamo la donna patrizia dell'impero romano abbiamo il chester Claudio, la chiavoletta, madama sorriso, topolina, cioli, stavolta devono venire anche loro prima un po' impegnati però abbiamo l'altro chandriston, abbiamo il zorro e la donna gatto Mirga allora approfittiamo intanto degli scatti fotografici della signora Mara fotografici